Buonasera cari francofontesi, se stasera siamo qui è perché purtroppo, dopo i fasti e le parate dei notabili della Pasqua, il nostro paese oggi si è svegliato grondante di spazzatura. Questo perché, come ben sapete, è stata promossa una nuova campagna di raccolta differenziata, che però manca dei principi base, perché evidentemente forse troppo presi dalla scelta della Miss Pasquale, i nostri notabili si sono scordati di informarci che oggi si sarebbe ritirato l'umido e non l'indifferenziata, come usualmente accadeva. Ma non è questo il tema del giorno, ma vi invito a rifletterci e a struggervi per questo. Nel frattempo parliamo di un tema che grava sulle spalle dei cittadini da diverso tempo, ed è quello delle tasse pazze del 2009-2008, che tornano come degli uccellacci neri ed incombono sulle nostre tasche. Infatti, l'amministrazione, colta da chissà quale squilibrio, ha deciso di inviare, porta a porta, delle notifiche di pagamento di tasse che sono state già pagate nel 2009-2008. Questo ha creato un profondo disagio, in quanto non tutti hanno l'accortezza di conservare le ricevute di pagamento, non tutti hanno più l'età e le energie necessarie per ricordarlo, e questo è sinceramente scorretto, perché si aggiunge un ulteriore balzello a quello che già il cittadino ha sulle spalle. Inoltre, va detto che dopo 5 anni, le cartelle di pagamento cadono in prescrizione, e quindi i cittadini non sono tenuti a conservare le ricevute di pagamento. Quindi, cosa sono queste, se non escamotage, create ad hoc per rimpinguare le tasse del comune a discapito dei francofontesi? Bene, quindi noi chiediamo fortemente che si provveda a rottamare tutte le cartelle che sono per legge andate in prescrizione, e quindi che abbiano superato i 5 anni, e di cui non si abbia una dimostrazione di avvenuta notifica. Perché l'onere della prova deve essere del comune e non del cittadino. Quindi, se non verrà accolto questo nostro suggerimento, probabilmente pensiamo che tra qualche anno forse saranno i cittadini a dover e a voler rottamare. Bene, questo è tutto, questo è il primo e non ultimo video che intendiamo proporvi per discutere delle tematiche e dei problemi francofontesi. Io vi invito a commentare o a dire la vostra sotto questo video, anche perché questa nostra iniziativa nasce soprattutto perché si vuole l'interazione tra i cittadini in una maniera più diretta e più progressiva, più producente. Quindi ci teniamo ad avere un confronto con voi, anche per poter aiutare l'amministrazione e a suggerirgli cosa fare. Detto questo, vi saluto e vi invito a commentare.